Con il meccadish Che cos'è un... Adron 220 by Steam Crave All'interno della confezione troviamo Cavo micro usb per la ricarica e per gli aggiornamenti Il nostro user manual Il classico adesivo Steam Crave Che troviamo sempre all'interno Questo adattatore per inserire le 18,6 e 50 Al posto delle 21 e 700 Per cui è stata concepita questa mod Qui abbiamo degli o-ring Che come vedete appunto nel fogliettino qui accanto Vi danno degli o-ring per far sì Che se utilizzate delle pile Che ballano all'interno della mod Ve ne danno di diversi tipi In modo, come diceva anche prima Miles Ragazzi Steam Crave su queste cose Ha sempre un occhio di riguardo Proprio nel dettaglio C'ha sempre l'occhio lungo E in più abbiamo questo tappino E dopo vedrete a cosa serve questo tappino È uno sper di quello già presente Poi c'era questo patacchino Che l'ho voluto conservare proprio per farlo vedere Dove viene specificato che non bisogna in alcun modo Provare ad aprire la nostra Adron Perché la parte interna è stata fissata Permanentemente a posto Se no la rompete e vi scade la garanzia Attenzione Andiamo a guardare adesso la nostra bambina La nostra Adron 220 by Steam Crave Partiamo subito con le misure Abbiamo un'altezza di 102 mm Una larghezza di 48 mm E uno spessore di 36 mm Iniziamo subito con le figate Perché questo bloccone di box In realtà pesa solamente 191 grammi a vuoto 330 grammi con le 2,21,700 che ospita la nostra mod E 308 grammi con le 18,650 È chiaramente il relativo adattatore Andiamo a guardare finalmente nel dettaglio la nostra mod Che era stata ideata per fare un perfect match Con l'aroma Mizer e con il Glaz 31 Che abbiamo anche recensito Ma ovviamente con l'uscita del Ragnar Fitta molto bene anche con esso E dopo ve la farò vedere Intanto il materiale della nostra scocca È lega di zinco Nonostante il peso Noi credevamo fosse alluminio Visto l'ingombro e visto quanto pesava Invece no È lega di zinco anch'essa Partendo dal lato Oltre queste insenature incise nel corpo della mod Abbiamo da un lato la scritta Adron 220 Dall'altro lato speculare uguale Ma abbiamo solo scritto di diverso Steam Crave Nella parte alta della nostra mod Abbiamo chiaramente il nostro attacco 510 La nostra bella tazzona Fa ridere che l'unica mod dove viene espressamente detto di non aprirla Mettono le viti con inserto a croce Anziché le torx Che è di solito il problema È reperire l'inserto per aprirle Quando appunto viene suggerito di non farlo Ma sorvoliamo Pin Squonk Il pin è forato Dopo andremo a vedere perché Altra cosa Ci hanno tenuto particolarmente alla qualità di questo attacco In modo che rispetto a tantissime altre mod Ha un drop voltage veramente molto 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 basso Nella parte sottostante Oltre il numero seriale Vari marchi eccetera Abbiamo due fori di sfiato per ogni cella E appunto il nostro sportello Per poterle alloggiare all'interno Come vedete il gancio Per poter avere accesso all'alloggio delle batterie È fatto in questo modo In maniera tale Che sia molto molto semplice Da fare grip e aprire E anche qua ragazzi Ve lo farei Avere in mano Per farvi sentire La tolleranza Che ha quando si apre Cioè proprio Si ha Cioè Lo accompagna È bellissima È una tolleranza fatta veramente veramente bene Senza contare la solidità di questo sportello Cioè qui c'è il pelo Perché è quel minimo sindacale Che è un sistema così ragazzi Non ne avete mai trovato uno Che non lo possa fare Perché è proprio fisica Però c'è La solidità di questa roba È impressionante Qui indicate su queste piattine Abbiamo le polarità Che dobbiamo seguire Quando inseriamo le batterie Che ovviamente sono meno e più Quindi all'interno diventano più e meno Come indicato Come in tantissime altre mod Giusto per dovere di cronaca Anche se ovviamente Le inserite in questo modo qua Ed ecco qua Inserite le celle Nella nostra Edge run Prima di andare a guardare il menu Vi faccio giusto vedere Che abbiamo il nostro grande tasto file quadrato Inutile dire ragazzi Incastato veramente veramente bene Praticamente nullo il gioco Sentite come Si preme bene Proprio una corsa bella Dura ma non eccessiva Giù di testa ragazzi Non esagero perché sembra Che uno dopo vuole Esagerare Però veramente Dovete averle in mano Sto robo per capire La precisione Nella realizzazione Che mette Stingrave Nei prodotti Anche qui abbiamo I nostri tre tasti Tasto up Tasto down E tasto Per girare Nei menu Il tasto appunto M E la micro usb Nella parte sottostante Per l'aggiornamento Del software Presente all'interno La parte posteriore Della mod La guardiamo successivamente Perché abbiamo Un'altra sorpresina Per voi Andiamo a guardare Il funzionamento Del nostro chipset È una versione Semplificata E custom Del chipset ISX490 Quindi abbiamo Un circuito SX A tutti gli effetti Ma estremamente Semplice E intuitivo Da utilizzare Andiamolo a vedere insieme Intanto con 5 click veloci Accendiamo il nostro dispositivo Logo Steam Crave È scritta Steam Crave A colori Ecco il nostro Schermo Andando a guardare La nostra schermata principale Abbiamo in alto La resistenza Quindi il valore In ohm Della nostra coil In basso abbiamo i volt Che a differenza Di tanti circuiti Viene segnalato Prima che premiate Fire Quindi non dovete Per forza fare fire Per vedere i volt In erogazione A destra Il lucchetto appunto Che ci indica Se la mod è bloccata O sbloccata Sotto la memoria Selezionata Tra quelle disponibili Dopo lo vedremo I watt Che stiamo andando A derogare Il numero di puff Effettuati Il tipo di pre-hit Volt residui Della batteria E carica E carica residua Della batteria Sotto forma Di tacchette Nella modalità power Per cambiare L'impostazione Dei watt Per regolare I vostri watt Premete il tasto M Si evidenzia Di rosso Il vattaggio In scatti Da 0,1 A 0,1 Potete regolarli Da un minimo Di 5 Ad un massimo Di 220 Come vedete Lo scorrimento A salire È un po' più veloce Rispetto a quando Lo abbassiamo La regolazione Di 0,1 In 0,1 Si ferma Dopo i 100 watt Una volta Che avete selezionato Il vattaggio Che volete impostare Tasto fire Ovviamente Non c'è l'autom Se no Non esce Check atomizer Scritta bianca E siete a posto Per cambiare il pre-hit Dovete premere Il tasto down Come vedete Potete scegliere Tra pre-hit soft Standard Powerful E powerful plus Una volta Che l'avete Selezionato Premete Fire E siete a posto Con il tasto up Invece Con la stessa logica Primo click Per dare l'input E poi premete Per cambiare Le memorie Come vedete Avete 5 memorie Pre-impostate Da personalizzare Premendo il tasto M Cambiamo le varie modalità Di utilizzo Intanto abbiamo La modalità Temperature control Dove non vengono indicati I gradi Ma i joule Abbiamo la modalità Temperature control Dove vengono invece indicati I gradi Celsius O Fahrenheit Che siano Con l'ennesimo click Possiamo andare a scegliere Il nostro materiale Quindi abbiamo L'acciaio Il titanio Nickel 200 TCR Di nuovo Il nostro Tasto M E torniamo Alla schermata Di prima Quindi come vedete Molto molto semplice Chiaramente anche qua Vale lo stesso discorso Qualsiasi modalità Quando vedete evidenziato In rosso Siete abilitati A poter Modificare Il vostro settaggio Una volta che avete scelto Quello che volete scegliere Premete il tasto Fire E siete belli Che posto L'impostazione Joule Come vedete Serve per regolare La potenza In poche parole È una sottospecie Di regolazione Come fate di solito Con le mod Che potete impostare I watt di spicco Qui ve lo fa fare Con i Joule Anziché Con i watt Una volta Che avete capito Come utilizzare L'interfaccia principale Con 5 clic veloci Andate nell'ultimo menu System off Quindi premete il tasto menu E spegnete la mod Manual TCR Appunto per impostare Il TCR Dopodiché Tasto menu Per tornare indietro Unità della temperatura Se lo volete In Fahrenheit O in Celsius Stand by time Appunto per decidere Quanto tenere Retroilluminato Lo schermo Ed exit Per tornare Al menu principale In più Per bloccare Il nostro dispositivo 3 clic Del tasto Fire Come vedete adesso Il lucchetto è sigillato Per risbloccarlo Altri 3 clic Volendo C'è anche la modalità Novizio Per attivarla Dovete premere Il tasto Up E il tasto Down Simultaneamente E tenerlo premuto Per 3 secondi Vedete che adesso Siete in modalità Noviz Modalità Noviz Non fa altro Che farvi regolare I watt I watt E basta Ovviamente Come suggerisce il nome È una modalità Che serve Per appunto I novizi Ma noi Direi che non siamo più Novizi da un po' Quindi torniamo Alla regolazione normale Nella stessa modalità Nel manuale ragazzi C'è anche scritto Chiaramente Come aggiornare La vostra mod Fateglielo un aggiornamento Perché l'ho dovuto fare Anch'io Per il fatto che Oltre che vi aggiunge Delle modalità Quindi Se tenete premuto Il tasto meno Per un secondo e mezzo Come vedete Andiamo in modalità Bypass Riteniamo premuto Il tasto meno Torniamo alla modalità normale Tenendo premuto Il tasto Up Facciamo la pulizia Dei puff Che avevamo già fatto Però se volete Azzerare i puff Tenete premuto Il tasto Up Senza contare Che prima dell'aggiornamento C'era un micro bug Risolto appunto Con l'aggiornamento Che anche se le batterie Erano scariche Mi continuava A segnalare Due tacche Quando in realtà Le batterie Erano finite Chiaramente Come vi ho detto prima Nel manuale C'è scritto Passo passo Come aggiornare La vostra mod Ma comunque ragazzi Estremamente semplice E lì ci sono tutti I link del caso Vi lasciamo noi Però in descrizione Un link Che vi porta Alla pagina Proprio di Steam Crave Perché potete scegliere Due tipi diversi Di aggiornamento La cosa bella È che vi danno La possibilità Si parla di una piccolezza Ma torniamo al discorso Di prima Vi danno L'opzione A È l'opzione B Dello stesso aggiornamento L'unica cosa che cambia È che nell'opzione A Quando andate a bloccare La vostra mod Diventa un key lock Quindi potete Ancora Erogare Mentre invece Come l'ho impostata io La B Una volta che è bloccata È bloccata E non potete Non potete neanche erogare Poi per il resto È la stessa cosa Quindi vi aggiunge Il bypass E la pulizia dei puff E vi corregge Quel piccolo bug Come vi avevo detto Precedentemente Andiamo a guardare Infine La parte posteriore Perché Vedete questa guarnizione Se la togliete Come vedete Abbiamo questo foro Perché Per questa mod Steam Crave Ha creato Uno squonk Pack Revolutionary Pump System Andiamolo a vedere al volo All'interno abbiamo Ovviamente Il solito fogliettino Che ci spiega Come pulirlo Come utilizzarlo E come fare La pulizia iniziale Da cosa è composto Il nostro Squonk Backpack Ed ecco il nostro Squonk Backpack Tanto è una confezione Chiaramente Anche qui L'adesivo I pezzi Di ricambio Le guarnizioni Di ricambio varie E queste viti Che serviranno Per fissarle Alla nostra Mod Prima di andare A fissarla Per farvi vedere Come si fa Eccola La nostra Fiaschetta Perché a tutti gli effetti Sembra proprio Una fiaschetta Dalla capienza Di ben 18 ml In poche parole Avete la capienza Di un Titan In short version Attaccato dietro la box In questo Ingombro Qua Che è veramente Veramente Piccolo Come vedete Abbiamo la nostra Finesta di controllo Liquido I due inserti Per fissare il nostro Backpack Alla nostra Mod Abbiamo poi Il nostro Tappo di refill Zigrinato Inutile dire Toleranza Spettacolare Morbida Si apre bene Si apre bene La qualità Costruttiva Di Sting Grave In modo Che potete Agevolmente Refillarlo Vedete anche qua La scorrevolezza Vabbè Basta E qui abbiamo La nostra Pompetta Perché abbiamo Un Revolutionary Pump System In poche parole Come abbiamo poi visto In maniera simile In altre mode Per esempio La Pumper Di Asmodus È un sistema Sempre Che aveva Questo principio Ma impostato In maniera Diversa Qui c'è proprio Tutti gli effetti Semplicemente Una pompetta Che la premete E lei Udite 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 Ogni volta Che fate Questo movimento State squoncando 0,4 ml C'è in poche parole Ci andate anche Di innaffiare Il giardino di casa La cosa bella È che l'ho usato Per due giorni In questa modalità Sia per confrontare Il Ragnar La Roma Mize In versione Dripper A Mesh Per vedere come funzionavano Appunto Per vedere Questo pack Come funziona E vi dico ragazzi Che finché non siete A questo livello Quindi quando vedete Proprio la fine Della vostra Finestrella di controllo Pesca molto bene Cioè Sconca quello che deve Quando arrivate Verso questo livello Non sarà una sconcata A 0,4 Doverete dare Una sconcata e mezzo Quasi due Ma stiamo parlando Di quando siete Alla fine Di 18 ml Quindi la struttura Comunque è semplice Anche il suo utilizzo Come avrete già intuito Questa qua è la sporgenza Che si va ad incastrare Nella nostra Age room Le due viti Che ci hanno mandato Quella lunga All'inserto a taglio Come dovrebbe avere Anche l'altra Ma a noi è arrivato Senza inserto Quindi non l'ho mai Utilizzata Ma vi posso dire che Semplicemente Avvitando Questa La tenuta È stata impeccabile E ragazzi Stavolta Stavolta proprio Per vedere La solidità Della roba Non l'ho Usata solo In negozio Me la sono anche Portata fuori Sì mi sono fatto Per curare Tutto quello che volete Ma Per le recensioni Questo ed altro My friend Quindi una volta Che arrivate a battuta Vedete Proprio a tirare Ma ragazzi Sto facendo forza Che si muove Chiaramente Ma se lo usate Come dei normalissimi Cristiani Anche solo con questa vite Si fa Regge Il discorso È che comunque È sicuramente ingombrante Non ci prendiamo in giro Il discorso È che tutto il complesso Anche la mod Ragazzi In sé Per come vedete Che è l'ingombro Non vi viene da pensare Che il peso sia quello Tant'è che feci la gag A un mio amico Che gliela volevo far vedere Appena arrivata L'avevo poggiata sul mobile E visto che era il primo giorno Che l'avevo Non avevo preso le misure Per prenderla dal mobile Presente quando prendete Un bicchiere d'acqua Credendo che sia pieno In realtà È vuoto E vi fa quell'effetto Di Ecco È successa la stessa cosa Perché Distinto mi era venuto Da calibrare Molta più forza Di quella necessaria Per sollevarla Perché vedere Questo ingombro Sembra che pesi Di più di quanto Effettivamente Poi pesa Detto questo Rimuoviamo Il nostro Squonk pack Ovviamente Beh ragazzi Inutile che ve lo dico Squonkate Il liquido arriva dal pin Bottom feeder Quindi Sinceramente Mi sento di Promuovere Appieno La funzionalità Di questo sistema Mi sono fatto Due tank interi Quindi 36 ml In squonk A parte Come vi ho detto Quando arrivate alla fine Che dovete squoncare Un po' di più Non avete Un cavolo di problema È perfetto Fa quello che deve fare Costruito bene Bellissima cosa A questo punto Andiamo a rimettere La nostra guarnizione Andiamo ad avvitarci Il nostro Aroma Mizer Ragnar E andiamo A provare Insieme Questa Mod Ragazzi Non ci resta Che sbattare Ragazzi Scusate Stiamo registrando Insieme Questi due video E niente Sono ancora Scioccato Dall'effetto Ragnar Ma va bene Torniamo a parlare Di quello Di cui dobbiamo parlare Parliamo di questa Box Intanto In positivo Non è per niente Proporzionale L'ingombro Col peso Cioè Se contate Che ci dovrebbe arrivare In teoria Una modica Che è in acciaio Ma una singola 18650 Che a vuoto Pesa 166 grammi Questa qua Le pesa 185 190 Quelli che sono Ma è una 2 Al 21 Al 700 Tadè Come ho detto prima La gag Che per farla vedere A mio amico Il primo giorno Che mi era arrivata Ha presa Ma ha fatto questo effetto qua Perché Per come la vedi Sembra molto più pesante Di quello che è Quindi Sotto questo aspetto Bella Sicuramente Ingombrante Ma al tempo stesso Comunque è ergonomica Comunque si chiede bene In mano Anche le posizioni Dei tasti Che la teniate così Che la teniate col pollice Comunque è comoda Da usare Senza alcun ombra di dubbio Il fatto che È veramente reattiva Cioè Veramente Si vede che il drop voltage È veramente basso Che ci sono stati attenti Perché parte bene Il circuito Sicuramente È complice Perché è un circuito Non devo dirvi io Non devo aggiungere altro Specialmente Reso così Semplice Facile È intuitivo Da usare Da chiunque Altra grandissima Feature Perché di solito Quando si comincia ad andare Su questi circuiti Diventano Chiaramente Meno user friendly E avere Quello che possiamo definire Il miglior circuito Da vari watt Ok Con tale Semplicità di utilizzo Già questo Proprio Intanto La qualità costruttiva I tasti La solidità del prodotto Lo sportello Ragazzi Lo sportello Bellissimo Senza contare La gestione batteria Gestione batteria Fatta solo Con due 18650 Da 3000 mAh Delle Samsung 30Q Pari pari Fino all'ultima goccia 18 ml A 75 watt Con il Deca mesh Che cos'è un Deca mesh Perché queste batterie Sono le Samsung 30T Le 21700 Che sono dentro Ballano Ma già mi avete dato Lo ring Che poi dopo Non fa neanche più Quella menata lì La qualità costruttiva Gestione batteria Aggiornarla È stra semplice Avete tutte le funzioni Possibili Immaginabili Chiaramente Lì grazie al circuito Ovviamente Inutile dire Che fino alla fine Non perde Praticamente Niente Di erogazione Tant'è Che prima Di correggere Il bug Che vi ho detto Precedentemente Con l'aggiornamento Mi segnava Ancora due tacchette Svapavo Io Check battery Oddio Cos'è successo Te non mi dire Che sei scassata La box Che devo recensire Ti prego Ma appunto Ma oltre Perché non era segnato Proprio perché Non avevo neanche Minimamente percepito Un calo di erogazione Eppure la batteria Era finita Quindi L'unico difetto Vogliamo dire È il fatto Che staccano alte Sì Staccano tre volte mezzo Tre volte quattro Staccano alto Effettivamente Vi durerà più tempo La batteria Le batterie Vi dureranno più a lungo Nel tempo Avete un po' Meno di durata Perché se staccassero A 3.2 3.3 Come le altre Svapavate Quei qualche ml In più Ma avete già capito Che stiamo andando A guardare Le piccolezze Quindi Questo è quello Che riguarda La gestione batteria Di com'è L'erogazione I vari pre-hit Poi dopo ripeto Questo tutto ciò Che riguarda Qualsiasi circuito I Quindi Non ho nient'altro Da dire Cioè Bellissimo Sicuramente Se non avete problemi A portarvi roba ingombrante Non so quante box Potete avere meglio Di questa Senza contare Che il prezzo Sta sui 110 dollari E Non ve lo dovevo dire io Andate se su voi A vedervi Quindi a parte La Come si chiama Quella Quella Che era L'agustiquing Che è un circuito I Ma a livello Costruttivo Non vi azzardate Neanche A provare un paragone Con questa Ma neanche Lontanamente Per sbaglio Ok Tolto questo Andatevi a vedere Le box Con questo circuito Quanto costano Solitamente E fate un'idea 610 euro Per sta box qua Può essere un buon prezzo O meno Quindi Non aggiungo altro Perché veramente Avete già capito Che per me Tantissima roba Vi do giusto Due info Sul discorso Dello squonk pack Che poi alla fine Avevo detto Sostanzialmente Già tutto prima All'atto pratico Funziona molto molto bene Una squonkata Da 0.4 Che mi ha fatto ridere Con il deck a mesh Deck completamente asciutto Chiaramente Che ho svapato Fino all'ultimo Guardare dall'alto Davo la pompata Appena davo la pompata Vi devo fare più il cotone In mezzo Che proprio Pum E veniva inondato Di liquido Cioè la squonkata Da 0.4 L'importante Ragazzi Madonna Con una sola pompata La tolleranza La corsa Della pompetta Le filettature Cioè la solita accortezza Il solito modo Di fare le cose Fatte bene Vendute a un prezzo Più che giusto Più che onesto Per quello che è Il prodotto offerto Cioè Assolutamente Quindi anche quello lì Sicuramente diventa ingombrante Vi ripeto Chiaro ragazzi Cioè Adesso siamo qua A raccontarci le barzellette Mi dite Ne vale la pena Io vi dico sì In qualsiasi lingua del mondo Assolutamente Stingrave ha portato fuori Un altro prodotto Degno del suo marchio Degno del suo nome E degno di come lavora Quindi Di nuovo Per l'ennesima volta Grandissimi prodotti Da parte Di Stingrave Bravo Detto questo Io sono Cata Sono Miles E ci vediamo nel prossimo video Di Vapers for Passion Ciao Ciao